L'opinione. Riflettiamo con Giovanni Cominelli su tematiche politiche e sociali del nostro tempo. La decisione del governo di varare il decreto legge Caivano, che prevede misure cautelari più severe per i minori, d'aspo, fogli di via, misure di contrasto alle baby gang, ammonimento, misure sul processo penale a carico di imputati minorenni e istituti penali per minorenni. Questa decisione è stata oggetto di forti contestazioni. Pan-penalismo, giudiziario, la destra securitaria ama la repressione, il carcere non fermerà la criminalità giovanile, occorre la prevenzione, servono scuole non carceri, serve un esercito di insegnanti, educatori, psicologi, assistenti sociali e, dulcis in fundo, un sacco di soldi. Un paio di cose, tuttavia, sono sottovalutate in questa discussione. La prima è la questione della sicurezza. Vero è che esiste una differenza tra la sicurezza reale e quella percepita. Le ricerche sociali e i sondaggi di Nando Pagnoncelli documentano che la sicurezza reale è di molto superiore a quella percepita. Accade che un interpellato si trovi al sicuro nel proprio ambiente, ma che attribuisca insicurezza ad ambienti lontani che non conosce. In ogni caso, la sicurezza del proprio corpo è un bene primario, precondizione di ogni altro. Viene prima della proprietà e della libertà, al punto che in nome della sicurezza, reale o presunta, gli esseri umani spesso rinunciano alla libertà. Quando viene meno la sicurezza? Quando sono violate le leggi? Quando la legalità viene fatta a pezzi? Un giornale, a proposito di Caivano, ha titolato «È il fallimento dello Stato». Polemicamente si intende il fallimento del governo e o dell'amministrazione comunale che l'opposizione di turno intende cavalcare. Tuttavia, se di fallimento si deve parlare, è di quello della società civile in primo luogo. Chi ha fallito a Caivano non è lo Stato, sono le famiglie, gli educatori, presidi e insegnanti e le agenzie a vario titolo educativo. Falliscono il paese, il quartiere, il condominio. È il silenzio omertoso che favorisce un clima di illegalità, di microviolenze, di bullismo, di sopraffazione. È il fallimento educativo il problema. Già che non tocca allo Stato educare, lo Stato non è in grado di sostituirsi alle famiglie, alle scuole, alle parrocchie, agli oratori, alle società sportive, né tocca allo Stato far rispettare le leggi. Tocca alle persone rispettarle. Allo Stato solo il compito, uno solo, punire chi le viola. Fallisce quando i delinquenti a tutti noti possono spacciare liberamente droga, intimidire e uccidere. Ma, vedi contraddizione, gli stessi che parlano di fallimento dello Stato si allarmano se il governo punta a rafforzare tutti gli strumenti utili alla repressione del crimine. Quanto meno è evidente che la repressione non è per nulla educativa. Non è il suo fine. La punizione severa, e si intende, è proporzionata del crimine. Non ha quale compito primario quello di rieducare il criminale, ma quello del risarcimento morale, psicologico-sociale di chi è stato offeso. Anche se gli effetti dell'azione criminale sono per lo più irreversibili, la punizione del colpevole non potrà mai restituire la vita a Gio Gio Cutolo. La repressione, punizione e condanna sutura una ferita collettiva. Ma soprattutto, riafferma il principio dell'amministrazione della giustizia come esercizio pubblico, controllato, trasparente. L'alternativa alla giustizia di Stato è la giustizia di strada, cioè il pestaggio, l'anguato, il linciaggio. È già accaduto. Ma, ed è la seconda questione, è che a Ivano si osserva abbiamo a che fare con dei ragazzi di cui alcuni minorenni. Sono pienamente imputabili dei loro atti nonostante scendano al di sotto dei 16 anni o dei 14 anni? La risposta è sì. Certo, si deve constatare che uno che commette un crimine a 12 anni non è pienamente maturo sul piano morale, se no non commetterebbe stupro, ma certamente dispone della consapevolezza intellettiva della criminalità del gesto. È noto che oggi i ragazzi maturano, tra virgolette va detto, prima, almeno nel senso che il periodo di latenza si è accorciato e che l'ingresso nella prima adolescenza è anticipato. Gli studiosi richiamano quali cause è un'alimentazione più ricca, ma soprattutto la sovrabbondanza di stimolazioni sensoriali ed intellettuali fornite dai nuovi prepotenti mezzi di comunicazione. Conseguentemente, si sta abbassando anche l'età della prima esperienza sessuale. Tale esperienza diventa traumatica e devastante perché è un'esperienza senza l'amore dell'altro, perciò intrinsecamente violenta. L'uso dell'altro, consenziente o no, è spesso la conseguenza fatale. I ragazzi, a quanto pare, diventano maggiorenni assai prima che la legge lo preveda. In un'intervista, Don Ciotti afferma che il malessere giovanile è uno straordinario indicatore di una disumanizzazione e mercificazione della vita, non solo nelle gabbie materiali e mentali delle periferie, ma anche nei centri urbani. Oggi, le emozioni dei ragazzi sono intercettate dal mercato e rese veicoli di profitto. E il loro bisogno di considerazione si manifesta anche in forme perverse e violente. Non dobbiamo stupirci di comportamenti che rivelano un vuoto sentimentale e morale, una totale assenza di empatia. In più, queste violenze vengono quasi sempre riprese da telefonini e poi diffuse nei canali social, segni di un disperato bisogno di apparire, di gridare al mondo la propria esistenza, anche a costo di uccidere o a violentare quella di altri. A sua volta, Massimo Recalcati utilizza un altro linguaggio per dire le stesse cose. Parcellizzazione molecolare del legame sociale, narcisismo, indifferenza, ipnosi collettiva senza alcun vertice aperatamente totalitario, diffusione capillare dell'imperativo del godimento, isolamento crescente dei soggetti ridotti di amonade individuali, esclusione dell'altro a vantaggio dalla creazione di comunità di simili, svuotamento nichilistico del senso della vita, eclissi del desiderio sommerso dalla marea montante o di un godimento compulsivo dello stesso, sentimento diffuso di inesistenza, vuoto, apatia, indifferenza, fatica di resistere. Queste le diagnosi sono perfette e quindi ne scaturiscono sempre e comunque solo due conseguenze, ambedue necessarie, che bisogna educare e che, nel caso del delinquente, bisogna punirlo. Come punire? Il criminale va isolato dalla comunità e contemporaneamente deve risarcire la comunità ferita. Solo con questo duplice movimento è possibile, forse, anche per il criminale, avviare un itinerario di redenzione personale e di assunzione di responsabilità. Da questo punto di vista è fortemente dubitabile che l'istituzione di carceri per minorenni possa servire a tali fini. Le carceri per adulti sono oggi degli inferni, luoghi dove migliaia di carcerati strisciano come le larve in celle sovraffollate, luoghi dove dalla persona viene scomposta e distrutta. Chi entra innocente, accade anche questo, ne esce predisposto al crimine. Servono dunque non carceri, ma comunità di lavoro, di studio, di servizio civile. Certo, se gli istituti scolastici funzionassero a pieno tempo dalla mattina alle 8 alla sera alle 20 come comunità di studio di lavoro e di servizio civile, ma devono fare i conti con il contratto di lavoro dei bidelli solo fino alle 14 con quello degli insegnanti solo 18 ore a settimana a scuola e con strutture edilizie ottocentesche. Sì, qui lo Stato, cioè i governi, ha fallito perché la scuola non è stata pensata come luogo di educazione per la nostra gioventù. Quanto ai genitori qui c'è un solo rimedio, la responsabilità individuale. Con un'avvertenza finale per tutti i redentori russoiani, gli esseri umani non sono naturalmente buoni, diventati cattivi per colpa della società, dello Stato e della storia. No, in ciascuno di noi stanno intrecciati con le virtù capitali, con le virtù teologali e cardinali, anche i sette vizi capitali. Il loro elenco è troppo noto. Avete ascoltato L'Opinione Riflessioni su tematiche politiche e sociali del nostro tempo con Giovanni Cominelli